Una pericena di solidarietà, una serata a favore di Tecla Ollus. Sì, una serata che è organizzata per giovedì 1 di settembre dalle ore 18 a Villa Severi. La organizza Tecla, questa associazione Ollus di volontariato che ormai da 12 anni si occupa di progetti sanitari in Africa, in particolar modo in Tanzania e in Madagascar. La serata di giovedì è finalizzata a raccogliere fondi per la Tanzania, dove sta portando avanti il progetto Sauro, che si occupa di bambini malnutriti. Quindi la malnutrizione è una piaga che affligge questo paese dell'Africa con una percentuale altissima e il contributo di Tecla è fondamentale insieme ai medici Africa, QAM. Una serata di solidarietà, non mancherà il buon bere però? No, neanche il buon mangiare, perché diciamo così che per fortuna siamo molto apprezzati dalle nostre aziende agricole. E noi nel territorio retino abbiamo delle aziende agricole fantastiche, sia per quanto riguarda il cibo che per quanto riguarda i mangiari. Perciò per noi è facile anche reperire materie prime, perché la cosa importante è che tutto il ricavato, ma tutto viene dato a Tecla. Nessuno prende una lira, perciò devo ringraziare le aziende che ci sponsorizzano e che ci permettono di poter offrire un buon bere e un buon mangiare, perché d'altra parte facciamo, da una parte promozione al territorio retino, che anche se non ne avrebbe tanto bisogno, perché è eccellente di suo, eccetera. E dall'altra parte facciamo una buona collaborazione, che ormai ci vede collaborare con Tecla da molti anni. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla musica e agli spettacoli. Sì, allora, come FMG Music in Vocal Academy, la scuola di musica qui in Via Calamandrei 95, faremo uno spettacolo dedicato interamente all'Africa. Musica molto allegra, molto divertente, quindi pop, we are the world, Africa dei Toto, musica molto ritmica e un concerto di voci dal nostro coro Gospel Angel Chuar.